Ferrari. Roma non ho alcun dubbio sulla motivazione di Charles, sa che sicuramente l'inizio della stagione non è l'obiettivo che avevamo il ritiro in Bahrain. La penalità è da, poi un altro ritiro a Melbourne. Sicuramente non era nei piani. Ma la motivazione c'è. Ho un buon rapporto con lui, e so che questo non influirà sull'umore. Frederick Vasseur ha parlato così di Charles Leclerc dopo le prime tre gare del 2023 in Formula 1. Complici i due ritiri in Bahrain e Australia, il monegasco ha fin qui conquistato solo sei punti con il settimo posto in Arabia Saudita. Le parole di Vasseur i piloti spesso affrontano interviste subito dopo la conclusione della gara. E sicuramente non possono essere contenti le parole di Vasseur riportate da Spadewake. Sarei molto frustrato se risultassero rilassati e felici della situazione. La cosa più importante per me è mantenere tutti motivati. Spingendo nella stessa direzione e sostenendo la squadra. So che la motivazione non è affatto un problema. Ovviamente i risultati non sono quelli attesi, ma lo sappiamo tutti. Virgola.